Ciao ragazzi, questa è la famosa tessera con cui imbrogliano qua dentro ma da quando siamo noi, insomma, un po' meno ma non è questo l'argomento, è un argomento bello a cui ci tengo molto ad essere partecipe è la ricorrenza dei dieci anni del meetup di Carrara sabato 2 aprile ci tengo molto e sarò lì con voi ad abbracciarvi tutti buona festa, ciao grazie